segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te cominciando a lei che la conosce bene e il diciamo il governo e il gradimento di meloni sono al livello più basso all'inizio del mandato cosa ha influito secondo lei diciamo che come tutti i governi quando passa qualche mese si iniziano a mettere in campo le azioni qualcosa cambia secondo me la gestione della vicenda cutro ha inciso negativamente sulla premier il comportamento messo in campo probabilmente non era quello che gradivano gli italiani insomma cicchito lei che ne pensa c'è lo stesso parere della polverini nel senso cioè che se la vogliamo prendere da un altro punto di vista sta emergendo che il ministero degli interni è una cosa troppo seria e difficile per essere affidata ai prefetti questo vale vale sia per l'amorgese precedentemente sia per l'attuale oggi è un ministero politico non dimentichiamoci l'amorgese è avvenuta una cosa straordinaria l'occupazione della cg e adesso è avvenuto il pasticcio di cutro ricordo che la democrazia cristiana non ha mai abbandonato il ministero degli interni e ha sempre messo un personaggio di grande rilievo perché è il decastero più politico che ci sia matteo forte secondo lei economia diritti civili immigrazione cos'è che ha fatto incrinare la fiducia al consenso su giorgia meloni ma posto che non penso che si sia incrinata la fiducia verso il governo verso giorgia meloni naturalmente ci sono state delle scelte impegnative che questo governo a mio giudizio coraggiosamente ha voluto fare nei primi mesi scelte anche in popolari ma la stessa meloni l'aveva detto durante la campagna elettorale pensiamo alla decisione presa sul sul reddito di cittadinanza quindi una serie di impegni mantenuti appunto anche a livello governativo che sicuramente rispetto al alla popolazione rispetto all'elettorato sicuramente sono temi impopolari scelte magari in popolari ma sensate vietti che ne pensi però anche coerenti perché se pensiamo ai diritti sono scelte coerenti ora i cosiddetti diritti ma direi che parafrasando al contrario andreotti visto che fabrizio cicchietto mi ha stimolato con i democristiani il potere un po inevitabilmente logora chi ce l'ha e quindi sei mesi di governo alla fine si pagano in termini di consenso però non per voler fare l'avvocato d'ufficio né della meloni né della maggioranza tutto sommato un consenso che si attesta ancora vicino al 50 per cento non è disprezzabile soprattutto tenendo conto del contesto perché sono stati non sei mesi normali sono stati sei mesi di grandi turbolenza dal punto di vista della politica internazionale della politica economica della guerra dei rialzi delle materie prime della crisi dell'energia quindi insomma non era neanche facile non era facile rimanere a questi livelli mariella stella e sui territori il governo è un governo che si fa sentire nel nel territorio guardi io penso che abbia ragione la mia professoressa delle medie lei ci spiegava sempre la differenza tra sentire ascoltare io penso che ci sia bisogno di ascoltarli i territori e i territori non si sentono ascoltati hanno bisogno quindi di una capacità molto più profonda di entrare nei problemi che tutti i giorni i territori vivono ragionando insieme ai territori rendendoli soggetti e non oggetto sempre di diciamo dei processi che vengono attivati quindi non basta la visita a cutro dice lei non basta la visita a cutro serve costruire un sistema che funzioni ma non solo con la propria parte politica con tutti perché è un tema collettivo attenzione perché questo potrebbe essere il tema ora arriviamo a forte pedula lei che idea si è fatto io penso che questo calo sia l'effetto delle retromarce continue che ha fatto questo governo in pochi mesi è passato dal pos alle accise al mess si è rimangiato molte delle promesse elettorali l'unica fortuna che ha è che ha di fronte un'opposizione disorganizzata nonostante l'elezione lashlein in francia vanno in piazza qui da noi invitano la melonia al congresso della cgl con un'opposizione così mantenere quei livelli un po più facile che ne pensa l'analisi pedula di mariella stella rispetto all'invito della melonia sta in piedi perché non c'è l'opposizione sostanzialmente che l'opposizione abbia qualche problema lo penso anch'io se non altro perché è divisa al suo interno però penso che per esempio l'invito della meloni alla cgl sia anche una pagina importante nella storia del nostro paese è la pagina della legittimazione reciproca che forse è quello che in tutti questi decenni è veramente mancato se quell'invito se quell'intervento contribuisce a rilegittimare gli attori magari anche in vista di delle riforme condivise che devono essere fatte perché questo paese manca sempre l'appuntamento con le riforme condivise io penso che questo sia un aspetto positivo per il paese nel rispetto delle posizioni nella differenza politica che deve essere salvaguardate da un certo punto questo paese è morto di consociativismo io credo che avere chiara una maggioranza e un'opposizione con programmi chiari davanti ai cittadini sia il sale della democrazia probabilmente la legittimazione reciproca non è consociativismo quando io riconosco il ruolo di maggioranza e di opposizione non è consociativismo allora guardate le posizioni ora le vedremo ora le vedremo le posizioni su economia e su diritti civili probabilmente sono nettamente differenti ma arriviamo a francesco il zio le faccio vedere la delega fiscale rachel garzi albarez serviranno almeno altri due anni per attuare la legge delega sulla riforma fiscale è già sicuro però che si passerà da 4 a 3 alicote irpef tutto per la felicità di chi ha un reddito medio alto visto che ci guadagnerà per una semplice questione di numeri se tagli un 2 per cento su 100 euro tagli 2 se tagli un 2 per cento su 1000 euro tagli 20 euro quindi se la tua aliquota del 35 per cento le quote intermedie si accorpano al 27 o il 33 per cento le due ipotesi in balo di sicuro ci guadagni problema è una misura che costerà soldi allo stato a base a cui riduci lama come si farà a coprire i buchi nei conti ridurre le agevolazioni fiscali è come credere che esistano i marziani se ne parla ma nessuno ancora li ha mai visti c'è poi chi dice se avassi le tasse più persone le pagherebbero e il gettito aumenterebbe senza entrare in discussioni economiche buon senso dice di non vendere il latte prima di aver munto la mucca che se poi resti senza quel che certo è che non ci sono novità invece della sempre rimandata riforma del catasto neanche un accenno forse il giorno in cui davvero si farà nessuno la vedrà arrivare non l'avevo visto del zio che ne pensi allora penso che stiamo discutendo di una cornice e non del dipinto perché il dipinto arriverà ovvero le aliquote dovranno essere fissate come sappiamo il percorso è lungo dura due anni e soprattutto dovrà essere fissato i nuovi livelli delle detrazioni che in teoria dovrebbero ribilanciare un sistema che sembrerebbe sbilanciato a favore dei ricchi quindi se guardiamo la cornice i principi sono assolutamente condivisibili meno tasse per tutti non solo per gli autonomi che oggi hanno la flat tax ma anche per i lavoratori dipendenti che sono tartassati da decenni questo è un principio che tutti sposano è una semplificazione molto forte di un sistema che il più complicato del mondo a livello di burocrazia fiscale manca il dipinto quindi per giudicare poi la sostanza vera le aliquote dobbiamo aspettare un bel po di tempo queste sono le intenzioni polverini sostanzialmente la legge delega e questo non è una cornice dentro la quale poi attraverso il parlamento ma non solo anche nel rapporto con i corpi intermedi le parti sociali si cerca di costruire comunque il famoso dipinto a cui accernava francesco del zio naturalmente io penso che bisogna mantenere la progressività e su questo mi pare che attraverso le aliquote e soprattutto attraverso le deduzioni e le detrazioni questo possa essere garantito io però dico anche aggiungo una cosa in che cosa secondo me sta sbagliando la Meloni nel annunciare prima ancora di dare comunque un contenuto lo abbiamo visto con il reddito di cittadinanza lo abbiamo visto con le politiche sull'immigrazione lo vediamo adesso con la delega fiscale forse preparare un provvedimento anche concordato con gli attori protagonisti investiti dal provvedimento stesso e poi in qualche modo spiegarlo va bene aggiungo e concludo che l'unica garanzia che mi sento in questo momento di poter dire è che abbiamo un viceministro leo che è un fiscalista che conosce la materia a fondo quindi questo in qualche modo mi fa ben sperare non è così semplice facevamo l'esempio bisogna vedere come poi utilizza il suo sapere pedullà dice la polverini perché annunciare prima la cornice se ancora non è chiaro il dipinto ma perché c'è una una esigenza di propaganda che fa parte di un'eterna campagna elettorale che si vive in questo paese d'altra parte siamo appena passati dalle elezioni regionali di due importanti regioni si sta già preparando la campagna elettorale per le prossime europee io credo che tutto questo illude cittadini e allontani quelle persone che si aspettano dalla politica risposte concrete se ne sono allontanati già tanti abbiamo visto quanti pochi vanno a votare rischiamo che sempre più si crei l'illusione la bolla di cose che si fanno dico però anche per fortuna che gli annunci non fanno seguire poi dei fatti perché ad esempio sul reddito di cittadinanza si è annunciato che sarà concluso e anche che dovevano partire già gennaio i corsi di formazione e il lavoro i disoccupati continuano caparbiamente a restare disoccupati i corsi di formazione non si vedono rischiamo che a luglio sarà tutto come oggi il nulla passiamo un attimo per vietti e maniella stella è vero che vanno più soldi in tasca chi ne ha di più questo come diceva francesco bisognerà vederlo nella attuazione pratica per la verità è tutto da definire anche la percentuale delle aliquote e la compensazione con le detrazioni quindi oggi è molto difficile fare quel tipo di previsione è anche vero che comunque chi ha più soldi ne spende di più e quindi il contributo diciamo al consumo di chi guadagna di più è diverso da chi guadagna di meno per cui io credo che adesso fare dei processi alle intenzioni diciamo però non è uguale se uno si compra otto ferrari o se otto persone si compra il pane con 20 euro è difficile con 20 euro neanche la ferrari neanche il modellino si compra no però io dico io sono d'accordo con francesco le i principi spiegatori della delega a mio parere sono condivisibili che andassero ridotte le aliquote era pacifico per tutti che cosa si rinuncia in campo semplificare soprattutto il sistema è fondamentale che bisogna abolire l'ira perché è una tassa che nessuno più condivide certo c'è qualche cosa che manca per esempio sarebbe opportuno intervenire sul cuneo fiscale può sapere da dove vengono i soldi anche Maria D'Astella che impressione ha lei ho l'impressione che tutte le volte che si parla di economia appunto non essendo un economista l'impatto sui cittadini sia sempre un po' più raccontato che è realmente verificato spesso è quello che accade quando si fanno delle politiche di cui poi non si verifica effettivamente l'impatto io credo che la differenza si parla spesso di chi si arricchisce chi si impoverisce io direi che forse dovremmo considerare la società come un organismo diciamo fluido in cui ci sono anche tante sfumature non è sempre netto non stiamo creando sempre solo nuove povertà forse dobbiamo cercare di ragionare su sistemi che in qualche modo come posso dire portano a tutti più benessere ad esempio l'economia collaborativa quella che noi sperimentiamo da molti anni e ci sono tantissime organizzazioni in Italia che per esempio lavorano sul tema dell'economia collaborativa in cui non è più il denaro l'unico protagonista diciamo dello scambio ma diventa il bisogno e l'interesse che in qualche modo portano sia le persone che hanno diciamo redditi più alti che persone che hanno redditi più bassi vi faccio un esempio tra tutti ci sono delle delle piattaforme ormai il digitale in questo aiutato molto diciamo ha democratizzato molti processi delle piattaforme che consentono di vendere cose usate e di acquistarle a prezzi completamente calmierati ma non sono piattaforme che vengono usate dai poveri quelli che vengono usati poveri ma da tutti mettersi una nuova categoria in testa per leggere la società Andrea Scazzola ha trovato una categoria vecchissima ricchi e poveri anche i brillanti neri gli piacciono questa viene 120 mila euro Ugo il gatto ama perle, corallo e diamanti neri ma per chi può il gioiello giusto si trova sempre queste onde, questa morbidezza questo viene sui 400 mila questi smeraldi oltre un milione di euro l'uno grintosissimo con brillanti neri e rubini 30 mila quasi accessibile oggi in Italia non sembrano poi così pochi quelli che il lusso se lo concedono bella macchina grazie quanto costa? quello che costa costa è 10 mila devo un roles poi a patecca come vedi sotto ce l'ho tatuato perché me ne hanno già rapinati due una volta che stava sui 40 mila così è andato oltre i 100 ho comprato scarpe, magliette e cinture posso chiedere quanta spesa? qualcosa più di 1000 euro e per una borsa si fanno pazzie una borsa che non ci sta dentro neanche un cellulare 26 mila euro sono prodotti che si vendono come il pane e per chi può la notte è sempre al top quanto spendi una serata così? 4-5 mila euro minimo 5 mila Nando Pagnoncelli indaghiamo sul fronte dei diritti civili cosa si aspettano i cittadini da questo governo? vediamo risposte abbastanza nette lo vediamo col cartello 6 50% un italiano su 2 ritiene che saranno meno tutelati viceversa 1 su 3 ritiene che al contrario siano più tutelati la domanda che ci dovremmo porre però è quanto i diritti civili influenzano poi gli orientamenti di voto inducono gli elettori a cambiare le loro opinioni il loro orientamento di voto e quanto lo fanno? in realtà al momento sono i temi economici quelli decisamente più importanti si parlava di fisco è interessante capire alla fine quale sarà l'impatto sul gettito complessivo e quale potrebbe essere come dire la conseguenza sui servizi pubblici essenziali gli italiani hanno un rapporto molto ambivalente con le tasse da un lato ritengono che siano molte vorrebbero comunque pagarne meno ma nello stesso tempo non vogliono rinunciare ai servizi quindi anche da questo punto di vista sarà molto importante capire il problema è alla base ma più forte mi spiega perché invece per Fratelli d'Italia proprio in questo momento dopo l'incidente di Cutro nel momento in cui tutti si aspettano delle novità sul fronte del fisco perché Fratelli d'Italia secondo alcuni osservatori si è messo nell'angolo dei diritti civili con la questione della maternità surrogata guardi io non credo che si sia messo nell'angolo nella fattispecie è arrivata una risposta tramite il prefetto in particolar modo il prefetto di Milano a atti compiuti dal sindaco di Milano oltre che rivendicati anche da altri sindaci e annunciati durante la manifestazione del Milano Pride nel luglio scorso il sottoscritto forse è anche il motivo per cui sono qui dopo quelle dichiarazioni chiese al prefetto se quegli atti erano legittimi gli atti del sindaco Sala quindi di fatto si tratta di un iter che è arrivato a conclusione cioè il prefetto dice non è una scelta politica è un dato di fatto in quel momento non è una scelta politica poi che a questo abbia coinciso per esempio col voto sul certificato sulla filiazione UE penso che siano questioni di coincidenze temporali ma sicuramente il fatto che ha portato per esempio il prefetto a rispondere al sindaco è un fatto che porta a compimento un processo poi certo c'è una scelta politica questo sì una scelta politica che personalmente rivendico che la maggioranza di governo rivendica e cioè il fatto di al contrario di quello che viene detto tutelare i diritti dei bambini perché questo è il vero punto cioè nel momento in cui si riconosce si avvalla una pratica che in Italia è vietata e si è compiuta all'estero quindi di fatto si è commesso un illecito penale e si riconoscono dei figli dei minori come figli di coppie dello stesso sesso noi stiamo negando a questi minori un diritto che tra l'altro è riconosciuto dalla Corte Costituzionale cioè il diritto alla verità biologica ma l'alternativa qual è? non ho capito l'alternativa qual è? gli dite non siete figli della famiglia in cui vi trovate ma? c'è un percorso molto chiaro che prevede la nostra legge e chi per esempio ha ribadito la Corte di Cassazione alle sezioni unite ha ribadito che il genitore biologico viene registrato quindi non è vero che i minori non vengono registrati quindi figlio di una signora in Canada viene registrato no 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 il genitore biologico che viene in Italia col bambino viene registrato il partner il compagno o la compagna seguono il percorso dell'adozione in casi speciali ok allora anche perché scusi pedulato breve poi Mariella Stella sulla modernità e poi torniamo all'economia con i nostri ospiti il prefetto rappresenta il governo se il prefetto ha agito è perché il governo ha agito e ha una linea politica non sono d'accordo con l'onorevole Cicchitto al Viminale non c'è un tecnico c'è un signore che si ama Matteo si legge piante dosi ma si scrive Salvini o viceversa fate come volete dopodiché il tema è uno cosa facciamo inseguiamo la maternità surrogata per il globo terracqueo così facciamo in modo che non si possa fare a nessuna parte sul tema delle diseguaglianze questo governo è assente rischia di aumentarlo e quell'ascensore sociale di cui ha parlato la Meloni alla CGL non solo non sale ma sta scendendo rischia di andare allora attenzione abbiamo discusso molte volte in questo tema questa volta stiamo cercando di capire qual è la consonanza del governo con la società che cambia ora avremo ospite anche il presidente di Federbalneari titolare dello sport in bici a Ostia e con lui parleremo di quelle che dovrebbero essere le liberalizzazioni che una volta si chiamavano Mariella Stella quanto si rischia quanto questo governo rischia di non capire la trasformazione del paese beh a partire dai diritti civili se posso dire è una cosa che mi lascia molto perplessa perché mi chiedo come sia possibile poiché ritengo che i diritti siano proprio quello strumento con cui diciamo un paese o un governo ti guarda e tu ti senti visto in quanto riconosciuto perché hai dei diritti io non capisco come si possano in questo caso togliere a dei bambini si possa togliere il diritto a una famiglia quindi penso che non si stia ad una famiglia composta da due genitori che amano e accolgono questo bambino come sia possibile non riconoscere a un bambino la sua stessa esistenza il suo diritto a esistere in una famiglia questo non è vero in più mi sento anche di dire un'altra cosa come si può pensare che quel bambino che dalla nascita non si è sentito riconosciuto non si è sentito accettato nel suo paese possa diventare un cittadino attivo possa avere a cuore il bene comune di quel paese possa avere a cuore le sue istituzioni allora aspettate ci torniamo forte aspettate con Delzio voglio fare un passaggio una direttiva europea no? abbiamo detto no ce n'è un'altra che riguarda i balneari c'è in generale la nostra premier che sta per andare in Europa a presentare le cose di cui ha parlato oggi allora quanto c'è dell'Europa che ci piace è possibile scegliere un po' di Europa qua un po' di Europa là sulla base quello che ci piace ora le invito anzi a spiegare a Massimo Muzzarelli che saluto perché magari servirebbero le liberalizzazioni sul fronte ai balneari prego Delzio Muzzarelli ovviamente mi ha fatto la domanda più facile qui il tema secondo me è questo ci sono interi pezzi dello Stato del demanio quindi di tutti noi di tutti i cittadini che oggi sono gestiti in maniera clamonosamente inefficiente non parliamo di favoritismi non parliamo solo di canoni evidentemente troppo bassi e fuori di mercato ma il modello di gestione è un modello di gestione di cent'anni fa che non risponde alle esigenze di tutti noi cittadini continuare a riconoscere queste sacche di favoritismo a mio avviso è un errore clamoroso chiunque lo faccia Muzzarelli Buonasera prendo uno spunto proprio dalle ultime cose dette in studio e vorrei confermare che la posizione mia ma assolutamente di Federbanneari dei balneari in grande parte è proprio quella di andare incontro a un cambiamento sono anni che richiediamo questo cambiamento e faccio faccio semplicemente notare che stiamo andando avanti ormai da 13 anni con 4 proroghe e a ciascuna di queste proroghe era sotteso il fatto che si procedesse a un riordino complessivo della materia partendo dai canoni alle modalità di assegnazione e a tutto quello che oggi può essere visto come modello antiquato un inciso ma non conta quello che conta i canoni come prima cosa quest'anno sono stati già aumentati del 25,15 che è una cosa storica ma credo che a fronte di un riordino complessivo e di una revisione delle modalità di cui dicevo prima probabilmente il canone possa essere sì una preoccupazione ma non la maggiore è più importante il cambiamento di modello probabilmente è una bella notizia questa in ogni caso è un movimento siamo d'accordo siamo d'accordo sul fatto che pezzi di Stato debbano essere gestiti in maniera molto più efficiente di come lo sono oggi e anche chi lo gestisce oggi è d'accordo allora attenzione perché si possa dare attuazione alla Bolkestein quindi allora se citi Bolkestein è come citare dei fagliati lui stava facendo un paradosso stava facendo un paradosso dice allora diamo se la modernizzazione parte ascoltate perché ci sono due ex parlamentari della destra perché Fabrizio Cicchito e Renata Polverini bisogna capire se questa destra ha capito dove va il paese oppure diciamo più volte il paese ha scommesso su una scorciatoia è successo con Salvini è successo con Grillo è successo con con Matteo Renzi e un po' è rimasto deluso allora questa destra ha capito come cambia il paese Cicchito Polverini poi una domanda per Vietti è una domanda complessa perché questa destra dentro questa destra ci stanno più destre e quindi e quindi è da capire quale prevarrà nel senso cioè che secondo me nel bene e nel male la Meloni ha capito la estrema difficoltà con cui malgrado questa vittoria squillante deve affrontare una serie di problemi nel paese e quindi anche per questo ha cambiato alcuni degli elementi della campagna elettorale che la mandavano a sbattere perché se tu cominci no euro bene Putin e così via vai a sbattere e quindi lei ha cambiato gli altri gli hanno cambiato da capire se altri pezzi del centrodestra la secondano in questo si mettono di traverso vedi Salvini e vedi Berlusconi più vedi Salvini vedi Salvini io penso che soprattutto rispetto alle politiche per l'immigrazione lo abbiamo visto nella vicenda Cutro che comunque la Meloni aveva la possibilità di cambiare la sua opinione ma è stata in qualche modo risucchiata da Salvini sui diritti civili io vorrei solo che si guardassero intorno nella scorsa legislatura abbiamo combattuto in alcuni parlamentari anche di centrodestra per esempio per lo Iusoli abbiamo fatto campagne per i diritti affiancando anche Zanna laddove c'era la necessità di riconoscere alcuni diritti abbiamo visto oggi che si arriva ad approcciare in maniera molto ideologica perché non c'entra niente la maternità surrogata con i diritti dei bambini io penso che una destra moderna potrebbe semplicemente dire più che come nascono ormai sono nati esatto ormai ci sono ormai ci sono ma infatti è previsto è previsto un percorso allora acceleriamo i processi di adozione non facciamo in modo che inizi un percorso tolgo la palla al banco allora su quello vi troverete vi è mi dia uno scenario però intanto noi dell'Europa politica ci occupiamo invece quella economica con il rialzo dei tassi dove ci può portare? il rialzo dei tassi è obiettivamente un grande problema è un problema per le famiglie è un problema per tutti quelli che devono pagare il mutuo è un problema per l'economia certo noi sappiamo che la Lagarde si preoccupa di contrastare con il rialzo dei tassi l'inflazione troppo rialzo dei tassi per combattere l'inflazione può produrre recessione e quindi c'è da augurarsi che su questo si trovi un equilibrio sempre quello si sente piccola pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.